Ciao a tutti, io sono Daniele, io sono Anna, benvenuti nel Cinegrifone e qui troverete la riproposta di alcune tecniche antiche. Noi siamo rievocatori e abbiamo scelto per la nostra esperienza di non parlare solamente del Medioevo, bensì di metterlo in pratica, perché abbiamo capito che per comprendere di più questo periodo storico ricco di conoscenze è meglio metterlo in pratica piuttosto che parlarne solamente. Per cui iscrivetevi, supportateci, condividete i nostri video e grazie e alla prossima!